Finisce qui! Inter batte Frosinone 2 a 0, un'altra vittoria dell'Inter che non si ferma da sosta a sosta, le vince tutte, riprende la vetta della classifica, una vittoria rotonda Simo che lancia un forte segnale a questo campionato che ci manda alla sosta in vetta alla classifica più due sulla Juventus e poi ci sarà questo super scontro tra Inter e Juventus proprio subito dopo la sosta più otto sul Milan, più dieci sul Napoli, è una partita che però dà dei segnali forti perché l'Inter la gioca da grande squadra contro un Frosinone che sapevamo sarebbe stato insidioso perché è una squadra in fiducia, una squadra di talento con tanti giocatori molto interessanti, l'Inter l'ha controllata e poi dopo aver creato anche i presupposti per andare in gol la segna con un super gol di Di Marco, uno che ti capita una volta ogni dieci anni probabilmente di vedere e allora anche questo vogliamo interpretarlo come segnale, un gol molto importante perché poi da lì il Frosinone inevitabilmente risente un po' di quel gol subito, perde un pochino la bussola e l'Inter quindi poi si porta a casa questa vittoria 2-0 ancora una volta senza subire gol, c'è poco da dire Simo, oggi prestazione veramente da squadra che vuole andare a prendersi questo scudetto Sì concordo perché non è stata una partita brillante, come hai detto anche bene nel primo tempo la sblocchi con un gol che ti riesci a fare una volta su un milione probabilmente ripeto non è un tiro da centrocampo classico tra virgolette, è un tiro che parte da un metro di distanza dalla linea laterale con l'uomo addosso quindi è dieci volte più difficile di un tiro da centrocampo che beffa un portiere magari troppo fuori dai pali e questo è un piccolo segnale nel complessivo ma lo scopriremo fra qualche mese se sarà stato un segnale effettivo e poi nella ripresa secondo me l'Inter ha fatto anche un pochino meglio, non ha fatto ripeto una grande partita ma ha fatto un po' meglio però il fil rouge, la linea comune delle partite dell'Inter che giochi bene, che giochi male, che schiacci l'avversario, che lo gestisca è sempre quella, almeno due gol molto spesso fatti e altrettanto spesso non ne prende è questa la vera differenza dell'Inter di questa stagione rispetto per esempio a quella dell'anno scorso e quest'anno l'Inter gira-rigira non prende mai gol fondamentalmente o al limite ne prende uno quando lo prende e questo ce lo insegna proprio la nostra rivale numero uno classifica alla mano che in Serie A è importantissimo quindi fin quando riusciremo a mantenere questo trend è tanta tanta roba adesso ci scontreremo con i maestri del non gol subito tra due settimane e lì vedremo come andrà oggi Stimo per me è una vittoria molto importante perché era forse una delle più classiche partite trappola perché sappiamo che l'Inter quest'anno paradossalmente i problemi li ha avuti forse un po' di più in casa nel senso che Sassuolo e Bologna sono due partite che ci sono rimaste impresse soprattutto partita che arriva dopo una gara di Champions poteva davvero creare delle difficoltà però anche qui secondo me sta la crescita che sta avendo l'Inter dentro questa stagione cioè l'altra volta arrivavi alla gara col Bologna dopo pochi giorni rispetto alla gara col Benfica Insega aveva schierato praticamente gli stessi sia col Benfica che col Bologna per me anche per dovere perché quella col Benfica era veramente importante vincerla poi col Bologna era insidiosa e quindi dovevi confermarli ma lì avevi risentito della stanchezza e il risultato poi lo si è visto oggi hai avuto la bravura e la possibilità di fare delle rotazioni col Salisburgo di portarla a casa quindi col Frosilone Schieri chiamiamoli titolarissimi e non abbassi la tensione nemmeno un minuto all'interno di questa partita concedi veramente quasi nulla all'avversario e la porti a casa da grande squadra se vogliamo trovarci ancora una volta dei margini di crescita anche dentro questa partita io dico da un lato a me oggi ha dato ancora una dimostrazione di forza importante questa squadra sinceramente per me oggi è una di quelle vittorie che una squadra che vuole vincere lo scudetto fa anche per l'attitudine che metti in campo per la forza ecco d'urto che metti in campo di sicuro anche in questa partita si sono visti degli elementi che si possono migliorare troppe azioni di ripartenza che non si sono concluse bene per mancanza di precisione nell'ultima giocata per errore anche nella scelta che è stata fatta in alcuni momenti anche troppi colpi di tacco passaggi anche un po' tecnicamente difficili quando si poteva giocare anche in maniera più semplice e da un lato in alcuni momenti questa giocata più complessa è stato un valore aggiunto perché abbiamo visto un Inter che a un certo punto ripartiva in contropiede o comunque in ripartenza con una serie di colpi di tacco e si sono create tante cose buone in quel modo lì in alcuni momenti forse anche troppo quindi dosare questa cosa sarà importante però in un San Siro che ti spinge così con una squadra così in fiducia e che sente l'odore del sangue cioè sente che stai battendo l'avversario stai andando sul 2-0 stai chiudendo una partita che ti manderà poi ad affrontare la Juventus da capolista un po' lo posso capire chiaro che se vuoi davvero prenderti e ammazzare il campionato questo è lo step chiamiamolo tra virgolette cannibale ulteriore che puoi e dovresti fare sì poi sai l'Inter è un problema che si porta dietro fin dai tempi nemmeno fin dal primo Inzaghi ma fin dai tempi di Conte mi ricordo che c'erano diverse partite dove comunque potevamo fare molti più gol ma poi sprecavamo sottoporta una situazione che poi si è estremizzata ancora di più con il gioco ben più offensivo e spumeggiante anche di Inzaghi e in parte credo che siano anche dei problemi difficili da risolvere perché una squadra che crea tanto e che ti porta a tirare tanto se poi magari non è fisicamente al top qualche giocatore ripeto secondo me era ancora comunque un po' stanco visto anche il ciclo di partite arrivi lì e ti manca magari quell'attimo di anticipo nell'arrivare sul pallone o quella forza piena nella gamba per calciare o per fare il passaggio quindi è un po' fisiologico secondo me però senza dubbio ho detto bene dovremmo cercare di concretizzare un pizzico di più perché poi le partite si possono sempre riaprire e cioè ora nel finale per fortuna eravamo al novantunesimo ma Lautaro si mangia un gol che da uno come lui con la stagione che sta facendo non ti manca la vesti mai per esempio però ripeto va bene ce lo dico giusto per far capire eravamo sul 2-0 al novantunesimo chi se ne frega quello in questa stagione forse è l'unica piccolezza perché poi ribadisco la migliore notizia che ogni domenica ci porta quest'Inter è che dietro non solo non prende gol ma rischia e subisce pochissimo oggi c'è stato il palo di Kedira un paio di tiri nemmeno troppo pericolosi altre volte nemmeno quelli perché in tante partite l'Inter non solo non ha subito gol ma non subiva veramente azioni pericolose e questo è il vero grande vantaggio di questa stagione che secondo me ti può portare ad essere ancora più competitivo per quel risultato là ecco tra l'altro Sommer ha già raggiunto quota 8 clean sheet in serie A se ci aggiungiamo anche quelli della Champions dovrebbe essere a 10 se non vado errato 10 clean sheet l'anno scorso ne aveva fatti 9 in 25 partite al Bayern un anno aveva fatto 8 clean sheet in serie A e quindi lo ha eguagliato sostanzialmente Sommer già a questo punto merito suo perché mi sta dando veramente delle sensazioni di fiducia le sta trasmettendo sempre concentrato sul pezzo quando ho chiamato in causa merito anche di una difesa dove c'è un Darmian tra poco poi faremo le pagelle a parte sempre perfetto praticamente c'è una Cerbi che anche oggi fa una grande prestazione e un centrocampo che in generale è tornato a girare su dei ritmi veramente molto alti ringrazio il nostro Franco Marelli grazie a te per la splendida diretta dice come sempre relazione di Sommer da TikTok popolare grazie Franco per il grandissimo sostegno per averci seguito Sommer che fa una faccia abbastanza sorpresa ecco dal gol di Di Marco oggettivamente era difficile da potersi immaginare un gol così un po' alla Recoba un po' alla Florenzi dicevamo in Roma-Barcellona comunque abbastanza clamoroso De Picapica grazie le dice Forza Inter il nostro mitico De Picapica che ci sostiene sempre nel post partita che dire Simo un Frosinone che comunque ha fatto la sua partita l'ha fatta bene l'Inter non ha abbassato la guardia contro un avversario sulla carta più debole il Milan scivola come dicevamo a meno 8 il Napoli a meno 10 Juventus-Inter diventa una partita veramente devastante probabilmente sarà talmente carica di tensione che a livello tattico sarà veramente brutta soprattutto poi come dico sempre se voler giocare a calcio è solo una delle due è difficile poter fare una bella partita quindi me l'aspetto molto tattica molto dura contro il migliore esponente del gioco di pessima qualità è difficile sarà riuscire a creare secondo me qualcosa di gradevole però chi lo sa o mai mettere limiti a quello che può succedere io ribadisco il concetto che dicevo anche durante la cronaca sarà una gara importante non tanto per la classifica che secondo me a novembre conta fino ad un certo punto a maggior ragione perché poi se dovessi perdere la loro ti vanno davanti di un punto non di chissà quanto ma sarebbe importante perché è uno scontro diretto e in quanto tale ha un significato anche gli scontri diretti nel triennio nel biennio e mezzo di Inzaghi sono stati un tema soprattutto non mi ricordo la prima stagione forse quindi anche qui non dico ci vuole una crescita perché poi comunque hai vinto a Bergamo hai strabattuto il Milan quindi dei segnali li hai già dati con la Roma pure però ecco vincere un altro big match sarebbe importante e poi è uno scontro diretto e in un campionato dove almeno fino ad oggi Inter e Juve hanno perso pochissimi punti è evidente che lo scontro diretto è una di quelle volte in cui puoi effettivamente in maniera molto banale mangiare dei punti alla tua rivale quindi sarebbe importante anche per quello ed è importante arrivarci in questa condizione di classifica perché torno a dire la classifica non ha un peso specifico novembre ma psicologicamente essere stato primo per tanto tempo e all'ultima pre sosta e pre Juve Inter farti scavalcare sarebbe stato forse un tarlo che poteva infilarsi nella mente invece non è stato così quindi molto molto bene ma anche meritato perché poi chiudiamo vedere quello che produce l'Inter quello che fa l'Inter e vedere quello che produce fa la Juventus ed essere solo a due punti sopra sinceramente un po' mi dà fastidio ecco lo ammetto lo ammetto comunque chiudiamo in questa partita sono sicuro che i tifosi di altre squadre troveranno anche modo di appigliarsi alla questione arbitrale io ribadisco il rigore su Turam lo fischi perché il contatto c'è e il VAR secondo me non può intervenire perché il contatto c'è francamente Turam si lascia un po' andare detto dal mio punto di vista non è un rigore proprio così solare fatto sta però che nel primo tempo non è stato concesso uno su Mkhitaryan che per me era solare clamoroso e quindi davvero è abbastanza si è pareggiata la cosa ecco manca un rigore clamoroso su Mkhitaryan arriva quello su Turam un po' così ma comunque il contatto c'è quindi il rigore lo si dà chiudiamo qui fatemi sapere un po' che ne pensate nei commenti di questa Inter miglior attacco miglior difesa miglior differenza reti la squadra con il maggior numero di partite vinte clean sheet che continuano ad arrivare ci sono tante cose belle ah dimenticavo l'ultima cosa importante a sottolineare Simo il ritorno di Arnautovic ritorno di Arnautovic che era un tema è un tema con l'Inter che ha bisogno di ritrovare anche lui di poter allargare le rotazioni anche in attacco adesso è tornato se lo abbiamo rivisto finalmente in campo si è rivisto anche clamorosamente Stefano Sensi vedremo che tipo di apporto avrà Aslani era fuori per un lieve affaticamento e Arnautovic sicuramente sarà importante ecco anche per misurare le ambizioni dell'Inter nel prossimo ciclo perché dopo la sosta sarà probabilmente il ciclo più duro di tutti quindi nei commenti fatemi sapere il vostro migliore in campo e chi vi ha deluso invece della partita se ce n'è uno vi ricordo di sostenere il nostro progetto di iscrivervi e mi raccomando se non l'avete ancora fatto valutate la possibilità di abbonarvi per sostenere il nostro progetto e di avere accesso a tutti i nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno a tutti i nostri contenuti